Allora, siete pronti? Chi arriva adesso? Chi arriva? Più forte! Mago De Oz è una folk metal band di Madrid Allora, li facciamo presentare a volo Li facciamo presentare a loro Festival, chi ci sono? Il Mago De Oz Eccoli qua, Mago De Oz Mago De Oz Prego Mago De Oz Mago! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti